Ragazzi, le chiavi! Oh ragazzi, speriamo che questa casa che abbiamo affittato qui a Terracina sia bella, eh? Così ci facciamo l'ultimo weekend al mare! Facciamo l'ultimo weekend al mare, eh? Oh ma qua è tutto aperto! Oddio! Andiamo a vedere dentro! Andiamo a vedere dentro! Ma! Anche la parte di casa è aperta! Forse sono arrivati i dati per caso? Diamo conto dai! Sopra non c'è nessuno! Sopra non c'è nessuno! Guarda che davvero! Anche il manuale abbiamo controllato, anche qua non c'è nessuno! Nessuno! Ragazzi, andate a chiedere fuori a qualcuno se ha visto qualcosa! Sì sì, andiamo! Andiamo, ragazzo! Signora, ha visto per caso qualcuno uscire da questa casa, per caso? No, giovanotto, non ho visto nessuno! Ok, grazie! Emanuale! 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 Esparito! Emanuale, sopra non c'è! Esparito! Emanuale! Emanuale, sopra non c'è! Emanuale! Emanuale, sopra non c'è! Emanuale, sopra non c'è! Oddio, ragazzi, che cosa è stato? Succede una cosa strana! Cosa strana! Emanuale, sopra non c'è! C'è una cosa! Emanuale, sopra non c'è! Ho paura! Io sono un po' preoccupato per Emanuele! Chissà che vi fine avrà fatto! Ah sì, anche io sono preoccupata! Io ti metterò! Ha sentito? Si! Vieni alla sobra! In un sacanello E mai.. Ma non c'è nigione Quando ci siano telescambi Ah! Ahhhhh! Muaahh, vi ho uccisi tutti! Vi ho uccisi tutti! Muaahh, vi ho uccisi tutti! Oddio! Seguitemi! Muaahh, vi ho uccisi tutti! Muaah, vi ho uccisi tutti! Muaah, vi ho uccisi tutti! Grazie! Grazie!